La partita penso oggi della quale dobbiamo essere contenti per la prestazione che è stata fatta, che sicuramente è ottima. È normale che non sono soddisfatto fino in fondo proprio perché per la prestazione che i ragazzi hanno messo in campo oggi. Penso che avremmo meritato di tornare a casa con i tre punti, però insomma siamo venuti a giocare in casa della prima in classifica, dove qui finora avevamo fatto otto vittorie e un pareggio. Sono stati secondo me bravi nell'approcciare la partita, nonostante poi un gol subito su una pallina attiva dove probabilmente saremmo dovuti stare un pochettino più attenti tutti, un po' più concentrati e cattivi nel non concedere tutto quello spazio. Poi dopo penso che la proposta da parte della squadra sia stata ottima in tutta la partita. Allora, sono contento ovviamente del punto fatto perché per i ragazzi soprattutto tornare a casa oggi dopo una partita del genere con una sconfitta serve stato anche per il morale un aspetto sicuramente molto negativo, invece dai prendiamo l'aspetto buono, cioè quello di essere riusciti a venire qua e rimettere in piedi una partita contro una squadra forte e adesso però è normale che ce lo stiamo dicendo veramente da troppo tempo, dobbiamo iniziare a fare i punti e a giocarci buona parte della nostra salvezza in casa perché finora il nostro rendimento casalingo è stato decisamente deficitario e non possiamo pensare di arrivare alla salvezza e di iniziare a scalare le posizioni in classifica continuando così. Dobbiamo essere più bravi ad affrontare le partite in casa così come spesso le abbiamo affrontate in trasferta, quindi a partire dalla prossima settimana insomma quei ragazzi cercheremo di lavorare ancora di più di quanto abbiamo fatto fino adesso perché evidentemente per ora non è bastato per cercare, come appena detto, di fare qualche risultato pieno tra le mura amiche perché è quello di cui abbiamo bisogno. Ripeto, ce ne usciamo abbastanza soddisfatti per certi aspetti, io devo solo che ringraziare per quello che i ragazzi stanno facendo e hanno fatto fino a questo momento dal punto di vista dell'applicazione e della volontà di migliorarsi e dobbiamo però mettere dentro ancora qualcosa in più, quindi io per primo e il resto dello staff che quotidianamente mi dà una mano per cercare di preparare le partite al meglio, dovremo fare ancora di più e con l'augurio ripeto che si possa iniziare a gioire un pochettino di più tra le mura amiche.